L'alto funzionario delle Forze dell'Ordine che avrebbe tradito Giovanni Falcone è stato Bruno Contrada. A fare questa rivelazione, nel corso della trasmissione Atlantide condotta da Andrea Purgatori, è stato il giornalista Saverio Lodato, un passato nel quotidiano l'ora e oltre 30 anni di militanza all'unità come corrispondente da Palermo. «Questa confidenza mi è stata fatta direttamente dal magistrato ucciso dalla mafia nella strage di Capaci», ha sottolineato. Giovanni Falcone parlò a Saverio Lodato delle menti raffinatissime che guidavano la mafia dopo il fallito attentato della Daura dell'estate 1989, dove qualcuno tradì il giudice. E ieri sera il giornalista, a distanza di 28 anni e su pressione del collega Andrea Purgatori, ha rivelato il nome. Gli chiesi che fossero le menti intelligentissime e raffinatissime che avevano guidavano la mafia e a cui lui aveva fatto riferimento dopo il fallito attentato della Daura. Fui molto insistente. Il nome era quello del dottor Bruno Contrada, ha rivelato Lodato. Ma mi diffidò dallo scriverlo altrimenti non avremmo più avuto alcun rapporto. I due nel 1989 ebbero un colloquio, chiesto proprio da Falcone. Sarebbe stato Bruno Contrada, ex dirigente del SISD, dunque il sospetto traditore tra le forze dello Stato. Di fronte ad uno Stato d'animo, di fronte a un uomo che era consapevole di un conto alla rovescia per lui io lo incalzai su quel nome e quei nomi visto che lui parlava al plurale. Falcone vedeva una mano di pezzi dello Stato e delle istituzioni, lui già non credeva più da tempo che la mafia avesse decapitato un classe dirigente da sola senza che lo Stato italiano fosse in gradi di opporsi. Falcone aveva capito che si trovava in un gioco più ampio, quella che successivamente sarebbe emersa come trattativa Stato-Mafia. Oggi, 28 anni dopo, sollecitò l'apertura degli archivi italiani e americani sulla trattativa Stato-Mafia, per onorare la memoria di Falcone. Stato-Mafia